E se non lo fosse, sarebbe lo stesso. Io non sono arabo, Mumu. Vengo del corno d'oro. Perché mio padre dice va dall'arabo se lei non è arabo? Non hai comprato il vino. Arabo vuol dire aperto dalle otto del mattino fino a mezzanotte. E anche la domenica sto aperto, sai? Ieri non hai pulito la doccia. Lei che fa per essere felice? È sorridere che rende felici. Aspetta, prendi questo. Shukrugarni. Qualità superiore. Ti andrebbe di fare una passeggiata domenica pomeriggio? Polizia! Non voglio vederlo. Lei conosce il padre? Sarà meglio che parliamo io e lei di questa cosa, la prego. Non capisco. Non si può capire tutto con la testa. Quando è che mi adotta? Domani, se vuoi. Sai, ho lavorato molto nella mia vita, ma con i miei tempi. Lentamente. La lentezza. E questo è il segreto della felicità. E questo è il segreto della felicità.